Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Anzi, come avrei detto 999 pillole fa... Ciao a tutti! Oggi inizia la prima pillola di storia con Bob Italia. Ne sono cambiate un po' di cose, eh? Lo si vede che ne sono cambiate parecchie. Se poi andate a recuperarvi le prime pillole, secondo me è anche un po' cambiato il modo in cui queste vengono raccontate, ma quello sono ovviamente gusti. È anche cambiata la durata, questo di sicuro. Ad ogni modo, benvenuti alla pillola numero mille, la millesima pillola della nostra serie. Una pillola che credevo non avrei mai raggiunto, ogni tanto lo dicevo così per ridere e scherzare, pensate se arrivate all'anno mille, e invece siamo veramente giunti alla pillola numero mille. Ve lo dico veramente senza un po' di emozione, ma in questi giorni lo avete visto, di pillole con una forte emozione, per me ce ne sono state tante. Domenica c'è stata la fine di Orbis, oggi questo. Insomma, sono dei giorni un po' di festeggiamenti, di chiusura e di apertura di un nuovo periodo. Ad ogni modo, dato che le tradizioni si rispettano, anche per questa pillola numero mille, voglio fare un viaggio nel tempo. Così come tradizioni, ogni 50 pillole prenderemo la nostra DeLorean, eccola qua, e insieme a lei inizieremo a fare un bel viaggio nel tempo. Tutti insieme ci sposteremo nell'anno mille e proveremo a scoprire qualcosa di quest'anno. Viaggeremo come se fossimo dei turisti attraverso il mondo. Vi dico già che in questa puntata ci concentreremo principalmente sull'Eurasia, anche perché c'è molto da dire e perché nella puntata scorsa, quella a 950, invece abbiamo parlato molto dell'Africa, dell'Oceania, delle Americhe, e non c'è molto altro da aggiungere in questi 50 anni. E quindi, vi dico, facciamo tutti insieme questo viaggio nel tempo, scopriamo tanti particolari su quest'anno così particolare, così iconico, ma così vedremo anche pieno di personaggi, proprio personaggi più che stati molto molto interessanti, e perché no, prendiamo magari qualche spunto per le prossime mille pillole di storia. Quindi, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. I ringraziamenti li metto alla fine, così andiamo a una buona conclusione e non mi commuovo prima di iniziare a raccontare. Quindi, sigla, e poi viaggiamo nell'anno 1000. La nostra prima tappa è nel freddo nord Europa, così ci togliamo subito i punti freddi, poi ce ne andiamo al caldo, che secondo me, in questo periodo, dato che comunque nell'anno 1000, non fa ancora così tanto caldo, beh, in questo periodo togliamoci i punti freddi e poi scendiamo verso sud. Ad ogni modo, l'Inghilterra, come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, viene da tanti anni di relativa pace. Dopo un secolo, quasi un secolo e mezzo, di continuo invasioni da parte dei popoli norreni, dei vichinghi, l'Inghilterra, più o meno all'inizio del X secolo del 900, è riuscita a riconquistare tutte le sue coste, tutti i suoi territori, a cacciare gran parte dei norreni e a ripristinare la pace. Questa pace, però, proprio in questo periodo, sta finendo. Nel 991 d.C. è salito al trono qui in Inghilterra Etelredo, detto Etelredo lo sconsigliato o il mal consigliato, ci sono varie versioni di traduzione del suo soprannome, che peraltro è un soprannome probabilmente aggiunto postumo, un secolo e mezzo, due secoli dopo. Etelredo è salito al potere nel 991, grazie alle macchinazioni e soprattutto agli assassini fa ordinati dalla madre, che ha risolto il problema e gli ha spianato la strada per il trono. Ma fin dall'inizio si è trovato a vivere in un periodo molto diverso rispetto al padre, perché negli ultimi anni sono riprese le razzie da parte dei vichinghi, sono riprese anche le invasioni, con una grande flotta di invasione che pochi anni fa è sbarcata in Inghilterra e a lungo combattuto contro gli inglesi. E forse una risposta sbagliata a questo tipo di invasioni, il nostro Etelredo la darà di qui a due anni, nel 1002, quando ordinerà quello che è passato alla storia come il grande massacro dei danesi, cioè ordinerà la morte di tutti o maggior parte dei norreni che vivono in Inghilterra. Siano essi mercanti, soldati, donne, bambini, non importa. Questo grande massacro, di cui abbiamo informazioni diverse, qualcuno dice che sia stato un massacro limitato, ingigantito dalla propaganda dei norreni, qualcuno dice che invece sia stato veramente un grande massacro e in effetti sono state trovate delle fosse comuni dell'epoca in cui vi erano principalmente norreni, danesi, provenienti appunto dalla Scandinavia. Questo massacro farà comunque una grossa impressione in Scandinavia, zona che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è stata preda di varie lotte tra i suoi regni principali e che proprio in questo momento vede il re di Danimarca, Svein Barba Forcuta, figlio di Aroldo Dente Blu, cioè Bluetooth, tanto così ci capiamo, ricordate l'origine del nome del Bluetooth che tutti utilizziamo, bene, vede proprio in questo momento Svein Barba Forcuta, re di Danimarca, occupare e conquistare anche la Norvegia. Sarà proprio Svein, di qui a pochi anni, a condurre una nuova guerra di invasione in Inghilterra, tra l'altro, secondo alcune fonti, Svein aveva anche delle problematiche personali nei confronti del sovrano, dato che la sorella morirà appunto tra due anni nel grande massacro dei danesi. Nel 1013 Svein riuscirà a conquistare l'Inghilterra, diventando, diciamo, il primo sovrano di quello che qualcuno ha chiamato l'Impero del Nord, cioè un territorio che, grosso modo, occupa le coste del mare del Nord, Inghilterra, Norvegia e Danimarca. Lo rimarrà per poco tempo, ma il figlio di Svein, cioè Canuto, detto il Grande, di più a qualche anno ricreerà lo stesso impero e diventerà forse il più grande sovrano che i Norreni, che i vichinghi, abbiano mai avuto. Ma l'epoca vichinga sta progressivamente giungendo al termine. Li vedremo ancora nella prossima puntata, e poi, lo sapete, normalmente si indica il 1066, come la data di fine del loro periodo, che ci ha accompagnato nelle ultime puntate. Se ci spostiamo un pochettino più a sud nella penisola iberica, ecco qua, oltre a trovare decisamente più caldo, troviamo anche, ovviamente, una penisola spaccata in due, tra il centro-sud occupato dai musulmani, Al-Andalus, o meglio, il califato di Cordoba, se vogliamo essere un po' più precisi, e invece i territori a nord, che sono nelle mani dei cristiani, il Regno di Leon e Galizia, il Regno di Navarra, e così via. Bene, questa zona, negli ultimi 30 anni, ha visto l'azione di uno dei comandanti migliori che Al-Andalus abbia mai avuto, cioè Al-Monzor, il nome con cui viene conosciuto in occidente, ovviamente, che è stato un grandissimo, e ancora, adesso nell'anno 1000, un grandissimo comandante, che pur senza essere ufficialmente, né califo né sultano di Cordoba, in realtà, comandando delle forze armate, ha detenuto ufficialmente il potere, non ufficialmente il potere, negli ultimi 30 anni. Quando è salito al potere, aveva trovato un sultanato, un califato diviso, con delle forze militari, che era molto spesso difficile da utilizzare, perché lasciate al comando dei vari signori locali, che talvolta non partecipavano alle campagne, o potevano tradire. Per questo, nella prima fase del suo governo, ha creato delle forze armate più stabili, peraltro in gran parte mercenarie, arruolate in Africa, talvolta pensata addirittura tra i cristiani, che dovevano fedeltà, perché venivano pagate, al loro comandante, invece che al loro signore locale. Con quell'esercito, ovviamente più numeroso rispetto a quello cristiano, negli ultimi vent'anni, ha condotto delle grandi campagne, che non solo gli hanno permesso di riconquistare una parte di territorio detenuto dai cristiani, o di conquistare i cristiani, scegliete voi la versione, ma che l'anno gli hanno permesso di fare delle grandi razzie anche in profondità. Tre anni fa, nel 997 d.C., le armate musulmane sono giunte addirittura a Santiago de Compostela, quindi il luogo più sacro della Spagna per i cristiani, e una volta qui hanno distrutto la chiesa, sopra la tomba di San Giacomo, che non è stata invece distrutta, e si dice che abbiano rubato le grandi campagne della chiesa, costringendo degli schiavi cristiani a portarle appunto fino a Cordoba, dove attualmente sarebbero utilizzate come dei braceri, ma forse tutto questo è una leggenda. In realtà, se leggiamo le fonti spagnole, scritte poi qualche secolo dopo che parlano della reconquista, in questo momento il nostro Almonzor sarebbe già morto, sarebbe morto nel 998, durante una grande battaglia, che vide i mori sconfitti dalle forze cristiane alleate. In realtà sappiamo, grazie a molte altre fonti, che è ancora vivo, morirà nel 1002, cioè tra due anni di malattia. È possibile che nel 1002, mentre lui moriva di malattia, una parte del suo esercito venne sconfitta dalle forze cristiane, ma la cosa è ampiamente dibattuta. È possibile che le fonti cristiane abbiano cercato di dargli una morte decisamente più eroica che giustificasse maggiormente le vittorie cristiane e la reconquista. Però, insomma, se volete potete farvi un giro e capire un po' meglio come sia la situazione. Se andiamo oltre i Pirenei, in quella che oggi è conosciuta come Francia, e che diciamo in questo periodo alcuni storici iniziano già a chiamare Francia, perché fino adesso noi l'abbiamo chiamato Regno dei Franchi, ma qualcuno inizia già a dargli il nome Francia, le cose sono in effetti molto cambiate. Sono cambiate una trentina, grossomodo di anni fa, quando è morto, anche meno, venti, venti e poco più anni fa, quando è morto l'ultimo dei sovrani carolingi, cioè Luigi V, detto il fannullone, quando uno proprio ha dei bei soprannomi. La morte di Luigi V, che è morto senza eredi, ha spinto i nobili di Francia, i nobili dell'attuale Francia, a scegliere come nuovo sovrano un lontano cugino, cioè Ugo Capeto, che, come sapete, come riuscite a capire dal nome, sarà colui che darà vita alla dinastia dei Capetingi, appunto da Ugo Capeto, che regnerà in Francia, pensate, fino alla rivoluzione francese, poi brevemente anche dopo la caduta di Napoleone. Insomma, una dinastia lunghissima, che inizia proprio da Ugo Capeto. Ugo Capeto, il quale, possiamo dire, in qualche modo, stacca, quasi definitivamente, la Francia dal resto del Sacro Romano Impero. Da questo momento, le lotte che abbiamo raccontato nelle ultime puntate, che vedevano i re di Francia, quelli della parte tedesca, quelli della parte italiana, lottare per il titolo imperiale, a tutti gli effetti, finiscono per la Francia, che per carità, tornerà a interessarsi del titolo imperiale più avanti, ma senza più questa componente, possiamo dire, familiare. Ad ogni modo, attualmente, Ugo Capeto è morto, è morto quattro anni fa, nel 996, a sostituirlo, è stato il figlio Roberto. In realtà, in questo momento, però, in Francia, non si parla tanto di aspetti diplomatici, militari, per quanto in questi anni di scontri tra le varie fazioni di nobili ce ne siano stati, ma si parla molto di aspetti sentimentali. Perché? Perché Roberto è da molto tempo innamorato di Berta di Borgogna, un bellissimo nome, per carità, la quale, però, è anche sua cugina, sua cugina di terzo grado, ma comunque sua cugina, e questa sua richiesta di matrimonio, che venne quando Berta rimase vedova del primo marito e Roberto della prima moglie, perché, insomma, i matrimoni ce ne erano già stati, questa richiesta di matrimonio fu respinta più volte da Ugo Capeto. Quando però Roberto divenne sovrano e nessuno gli disse più che non poteva farlo, decise di prendere in moglie Berta di Borgogna. La cosa scatenò la reazione dei suoi nobili, ma soprattutto la reazione del Papa, che dopo avergli prima intimato di non prendere moglie, quando poi il matrimonio avvenne lo stesso, infilisse ai due sposi sette anni di penitenza, e vabbè, ma soprattutto li scomunicò e creò, invece, un interdetto su tutto il loro regno. La cosa, ovviamente, era gravissima, perché non solo scomunicava i due, ma a tutti gli effetti bloccava e rendeva nullo qualunque atto religioso avvenuto nel loro regno. Immaginate gli effetti sulla vita della povera gente, anche se probabilmente non tutti lo vennero pienamente a sapere. Nonostante tutto questo, i due non si separarono inizialmente, ma iniziarono una lunga lotta per cercare di ottenere il perdono. Lunga lotta che è terminata poco più di un anno fa, quando sul soglio pontificio è salito per la prima volta un Papa francese, che ha preso il nome di Silvestro II, il quale ha deciso di togliere l'interdetto e la scomunica lasciando solo i sette anni di penitenza. I due, però, comunque si separeranno lo stesso di qui a poco più di un anno. Il matrimonio non darà figli e dato che Roberto doveva assicurare una discendenza, prenderà una terza moglie che invece gli darà figli, anche se pare che i due, Roberto e Berta, continueranno a frequentarsi fino alla morte di lei. Insomma, questi sono pettegolezze ad ogni modo. La cosa interessante e curiosa è che oggi Roberto è ricordato come Roberto il Pio. Curiosità storica. In realtà, però, Papa Silvestro non doveva la sua elezione tanto al re di Francia quanto all'attuale imperatore del Sacro Romano Impero, cioè Ottone III. Ottone III è un giovane uomo che in questo periodo è riuscito a ripristinare buona parte del controllo su quello che appunto è il territorio del Sacro Romano Impero attualmente, quindi la Germania e l'Italia, per farle in maniera molto molto semplice. Lo ha fatto attraverso una serie di campagne che nonostante la sua giovane età lo hanno vinto vittorioso, molto spesso in realtà senza doversi realmente scontrare con i suoi avversari ma semplicemente facendo leva sulla forza del suo esercito. Alcune campagne fatte in Germania per porre fine ad alcune ribellioni e poi ha ben due discese in Italia. La prima, nel 996, scese in Italia per essere ufficialmente incoronato come imperatore dal Papa e la seconda nel 997 l'anno dopo riscese in Italia questa volta per aiutare il Papa che era stato messo, era stato minacciato da un nobile da un nobile romano che aveva addirittura nominato un antipapa Ottone scese in Italia prese il nobile romano e lo ammazzò gli tagliò la testa e lo appese per i piedi prese l'antipapa e lo mutilò. La cosa farà grosso scalpore ma in qualche modo salderà molto il rapporto tra Ottone e il papato Ottone che peraltro rimase poi due anni quindi fino un anno fa nel 99 a Roma addirittura restaurando uno dei palazzi imperiali quasi ad indicare una vera propria successione tra il suo titolo e quello degli antichi imperatori romani tanto che si parla di Renovazio Imperi. Bene questa situazione nel 99 venne ancora più accentuata quando venne eletto appunto il nuovo papa che vi ho detto era francese ma molto legato ad Ottone e che scelse un nome assolutamente non casuale Silvestro II appunto perché? Perché Silvestro I era stato il papa ai tempi di Costantino e quindi c'era un po' l'idea che in quel momento si stesse rinnovando un nuovo grande impero romano cristiano. Le cose poi andarono in realtà diversamente perché nonostante tutti i progetti nonostante tutti i disegni che erano stati fatti peraltro Silvestro II era un uomo molto acculturato che aveva viaggiato aveva grandi conoscenze nonostante tutto questo Ottone III morirà di qui a poco a due anni e tutta questa idea questo sogno di restaurazione probabilmente naufragherà anche perché in Italia la sua dinastia non riuscirà inizialmente a mantenere il controllo dato che la corona del regno d'Italia andrà ad Arduino di Ivrea e questo creerà nuovi scontri ma ne parleremo nelle prossime puntate. Sul fronte orientale in questo periodo l'impero conosce una relativa calma anche perché i suoi vicini più potenti cioè i polacchi in realtà si sono convertiti al cristianesimo dopo anni di scontri tra pagani polacchi e cristiani tedeschi circa una trentina di anni fa i polacchi si sono convertiti al cristianesimo ovviamente non sono ancora tutti convertiti sono convertiti in élite i sovrani ma progressivamente il cristianesimo si sta diffondendo come tutti voi sapete oggi la Polonia è un baluardo del cattolicesimo in Oriente in questi stessi anni in realtà sta nascendo la Polonia così come la conosciamo perché Boleslaw I detto talvolta al conquistatore sta conquistando tutti i vari ducati le varie signorie che compongono il territorio dell'attuale Polonia e riunificandole proprio nel primo regno di Polonia che possiamo dire che intorno all'anno 1000 poco prima è ufficialmente nato quindi in questo momento la Polonia ha mutato il suo volto è diventato un regno cristiano è diventato un regno unificato ed è diventato quel regno orientale che nei prossimi anni nei prossimi secoli continuerà a crescere fino a diventare uno dei regni più potenti in Europa e la sua storia sarà molto molto lunga e terminerà poi nel XVIII secolo quando sarà spartito dalle potenze vicine ma nella Polonia nelle prossime puntate torneremo spesso a parlare perché ripeto anche se se ne parla poco da noi in realtà la Polonia poi il Commonwealth polacco-lituano diventerà un regno molto importante ma stiamo anticipando veramente molto i tempi c'è un altro regno che in questo periodo sta andando incontro a vari mutamenti e quel regno è il Rus di Kiev che ogni tanto si sente nominare recentemente come l'origine dell'attuale Russia anche perché l'attuale sovrano nell'anno 1000 del Rus di Kiev è diciamo motivo attualmente di scontro fra russi e ucraini ed è Vladimir I Vladimir che ripeto per gli ucraini era ucraino per i russi era russo però aveva la sua capitale a Kiev è più che altro ricordato non solo come un grande conquistatore perché espanse i domini del Rus di Kiev verso est e verso nord creandolo veramente un regno molto potente ma è ricordato anche perché nel 988 prendendo in moglie la sorella Anna dell'imperatore di Bisanzio Basilio II si convertì al cristianesimo ora qualcuno potrebbe dire si convertì per amore in realtà no tutto questo fu parte di un disegno Vladimir si era reso conto di avere necessità di abbandonare quelle che erano le antiche tradizioni slave nordiche a cui lui stesso credeva almeno fino alla conversione per poter entrare più a pieno diritto nel consesso degli stati occidentali che stavano crescendo e per questo pare secondo alcune leggende che avesse mandato degli studiosi a studiare le altre religioni e poi fosse rimasto affascinato dal rito ortodosso praticato a bisanzio perché molto molto elegante molto sfarzoso e avesse deciso di convertirsi per potersi legare alla una delle dinastie più importanti dell'epoca decise di prendere appunto come moglie la sorella e basilio che aveva grossi problemi militari e che si era già scontrato anche con i russe in cambio di un aiuto militare fu ben contento di dargli in cambio la sorella e ovviamente di intestarsi la conversione dei russe al cristianesimo ad ogni modo progressivamente questo stato poi cambierà nel corso dei secoli e ne parleremo ancora andando avanti dato che l'abbiamo nominato scendiamo a sud perché in questo momento se andiamo a Costantinopoli che resta la città più importante dell'occidente cristiano possiamo trovare uno degli imperatori più incredibili dal punto di vista militare della storia cristiana ne abbiamo anche parlato in clash of generals cioè basilio secondo detto il bulgaroctono basilio secondo è un uomo che per tutta la sua vita combatte su tutti i fronti combatte all'inizialmente all'interno per sedare due rivolte che gli volevano strappare il trono combatte in oriente dove si scontrò contro i fatimidi con gli arabi di bagdad riuscendo peraltro ad ampliare in parte i dominio occupando la città di aleppo ma come dice il nome bulgaroctono combatte soprattutto nei balcani dove in lunghe campagne che sono iniziate pochi anni fa e che continueranno nei prossimi anni riuscirà a sconfiggere un pezzo dopo l'altro l'impero bulgaro che abbiamo visto negli ultimi anni essere una vera spina nel fianco dei bizantini dell'impero romano o impero romano d'oriente scegliete voi come definirlo una campagna che vedrà l'impero bulgaro letteralmente smantellato e riconquistato proprio da da Costantinopoli insomma il suo appellativo quello di bulgaroctono è assolutamente meritato così come meritato la sua nomea di essere stato uno dei migliori comandanti militari bizantini romani dell'epoca ad aiutarlo in questa sua campagna anche il fatto che in questo momento il fronte musulmano a sud dell'impero bizantino è più spaccato che mai è più spaccato che mai tra due fronti religiosi da una parte l'impero fatimide con sede in Egitto che è sciita ismailita e dall'altra parte invece i domini califali sunniti che fanno capo a Baghdad che invece ovviamente appunto sono sunniti mai come in questo momento questi due mondi sono spaccati mai come in questo momento forse c'è stata la possibilità che gli sciiti riuscissero a diventare dominanti almeno a livello politico in tutti i territori musulmani in questo momento a governare in Egitto il califato fatimide e al hakim che in occidente pensate e talvolta veniva talvolta ricordato come il califo nero o il califo pazzo questo perché si diceva che fosse un uomo durissimo durissimo col suo popolo durissimo con gli oppositori durissimo soprattutto nei confronti di coloro che avevano delle religioni diverse che fossero musulmani sunniti che fossero evrei che fossero cristiani pochi anni fa ha dato ordine che la chiesa del santo sepolcro a Gerusalemme Gerusalemme fa parte dei suoi domini venisse distrutta l'antica chiesa che era stata costruita all'epoca di Costantino fu in effetti completamente distrutta e recentemente ma se voi volete farvi un viaggio lo potreste scoprire ancora adesso ma vi dico che recentemente degli archeologi studiando la base dell'attuale chiesa del santo sepolcro ricostruita successivamente hanno scoperto in effetti i resti di quell'antica antica chiesa a indicare che probabilmente per quanto distrutto poi il sepolcro che era stato identificato ai tempi di Costantino come quello di Cristo in realtà rimase all'interno senza essere distrutto ma su questo ci sono ancora molte discussioni purtroppo non possiamo scoprirlo in questo nostro viaggio del tempo perché la chiesa è già stata distrutta e non c'è modo di recuperare di recuperare altre informazioni chi è il grande avversario di Al-Aqim beh è un altro califo questa volta appunto sunnita di Baghdad cioè Al-Qadir a differenza di Al-Aqim che ha un grosso potere anche politico nei suoi territori Al-Qadir di potere politico ne ha pochissimo assolutamente pochissimo comandare i suoi domini sono i suoi signori che mantengono controllo delle truppe mantengono i controlli a controllo appunto del territorio Al-Qadir però in questi anni si sta dando una gran si sta dando un gran da fare per cercare di aumentare il potere dei sunniti e lo farà con un cosiddetto manifesto di Baghdad cioè una serie di direttive che da una parte condanneranno gli sciiti e condanneranno lo stesso Al-Aqim e la sua dinastia dicendo che la loro discendenza da Fatima era una discendenza assolutamente fittizia dall'altra parte daranno delle direttive appunto al culto sunnita e alcuni considerano questo manifesto di Baghdad una delle basi dell'attuale organizzazione religiosa dell'islam sunnita che come tutti voi sapete ora è assolutamente maggioritario nel mondo musulmano l'islam peraltro non ha ancora perso la sua grande capacità di conversione tanto che continua a spingersi all'interno dell'Asia centrale convertendo progressivamente le genti turche che fino a questo momento avevano un credo di tipo animista e che invece si stanno continuando a convertire all'islam tra questi ci sono delle genti turchi appunto dette i Karakanid che proprio in questo periodo dopo essersi convertiti all'islam hanno condotto una serie di campagne che li hanno portati a creare un vero e proprio impero dell'Asia centrale occupando anche alcuni dei principali terminali della via della seta cioè Samarkanda e Bukhara famosissima per i suoi tessuti bene questo sultanato Karakanid che in questo momento è probabilmente all'apice della sua grandezza anche se in realtà è nato da poco più di vent'anni ha delle forze militari molto potenti che da una parte gli permetteranno di continuare l'espansione dall'altra di quei decine d'anni gli permetteranno di respingere invasioni proveniente da altre genti turche non ancora convertite da nord e questo probabilmente permetterà all'islam di stanziarsi definitivamente in questa zona la sua organizzazione però è tutt'altro che centralizzata sono popoli nomadi che dividono il loro territorio sotto il comando di vari signori anche perché il territorio è molto ampio anzi l'impero Karakanid viene proprio diviso in nove dieci parti tra i vari membri della famiglia della corte che teoricamente rispondono ad un signore avendo però larga autonomia una specie se così possiamo dire di sistema feudale che da una parte gli permette di essere molto forti militarmente e di intervenire in varie zone dall'altra inutile dirlo porta alla frantumazione di qui a 50 anni i Karakanidi si divideranno definitivamente in due di qui a 150 si frantumeranno talmente tanto da sparire del tutto ma questo un po' è il destino di questi di questi popoli poco più a sud in Afghanistan sta nascendo un altro regno quello dei Gazvanidi a farlo nascere pensate è stato uno schiavo il cui nome era Sabuktijin il quale era uno schiavo preso a Samarkanda o a Bukhara ci sono varie varie fonti proprio dai Karakanidi il quale venne venduto ad un comandante militare a un nobile che appunto agiva come mercenario il quale lo portò con sé nelle sue campagne verso sud verso i territori dell'Afghanistan campagne che lo portarono ad occupare la città di Gazvi da cui appunto Gazvanidi ad ogni modo questo comandante militare rimase affascinato da questo giovane schiavo tanto da dargli il permesso di diventare un comandante anche lui di farne un suo generale e alla fine di liberarlo quando il suo signore morì divenne il nuovo signore del suo esercito e lo condusse grazie alle sue abilità in una serie di campagne che proprio in questi anni gli hanno permesso di occupare per intero quasi per intero l'attuale Afghanistan questo però non fermerà la sua espansione perché il figlio che riprenderà le sue campagne condurrà i Gazvanidi ad occupare una buona parte dell'India del Nord creando un vero e proprio impero che nascendo dall'Afghanistan nascendo da uno schiavo che era entrato in Afghanistan permetterà di prendere controlli tutta l'India del Nord sono anni interessanti in cui anche uno schiavo può a un certo punto diventare un imperatore poi teoricamente ci sarebbe l'India del Sud che potrebbe essere anche interessante da andare a scoprire con i suoi tempi che stanno venendo costruiti è sempre molto affascinante la storia dell'India l'abbiamo visto in tutte queste puntate in realtà forse non è il momento migliore per andarci a fare una sosta e un picnic perché in questo momento nell'India del Sud si sta combattendo e lo si sta facendo in maniera molto molto dura un impero sta crescendo è l'impero dei Ciola che sono delle genti di stirpe tamil provenienti dal sud dalla punta più sud dell'India o dal nord dello Sri Lanka non è ben chiara la cosa che stanno progressivamente spandendo sempre di più il loro impero per farlo proprio in questi anni sono entrati in scontro con il popolo dei Chalukia o meglio dei Chalukia dell'Ovest come viene ricordata oggi la dinastia che abbiamo raccontato nella scorsa puntata occupare quasi tutta la parte meridionale meridionale centro sud-ovest dell'India un grande impero che non resisterà però l'aggressione fatta dai Ciola che provenienti dai loro territori a sud condurranno una serie di campagne verso nord di qui a poco un grande sovrano Ciola già al potere in questo momento cioè Rajendra I condurrà una serie di campagne che gli permetteranno di espandere al massimo i suoi domini Rajendra I è conosciuto come il conquistatore o colui che portò il Gange perché pensate le sue campagne porteranno le sue armate fino proprio al Gange Rajendra creerà un grandissimo impero un grandissimo impero politico diplomatico ma anche commerciale perché stenderà il suo dominio commerciale verso il sudest asiatico verso l'Indonesia verso l'Indocina creando basi commerciali in questa zona e unendo proprio il commercio di questa parte orientale dell'India con quello dell'Indocina Rajendra sarà però anche un gran costruttore molti dei monumenti di questo periodo furono costruiti per suo ordine farà costruire grandi torri palazzi di cui una parte è sopravvissuta e mostrano un tessuto culturale artistico decisamente molto vivo molto vivo purtroppo anche a causa di tutti questi combattimenti che stanno creando questo impero Ciola peraltro di qui a qualche anno Rajendra dovrà anche combattere contro una coalizione di tutti gli stati del centro dell'India che uniti cercheranno di sconfiggerlo stati che fino a quel momento si erano combattuti ma che si coalizzano contro un nemico più forte non ci sarà nessun problema li sconfiggerà tutti e continuerà la sua espansione dove invece siamo in un periodo di relativa adesso vedremo perché pace è in Cina qui il periodo che abbiamo raccontato nella scorsa puntata di confusione di guerra civile è alla fine finito perché alla fine a prendere il potere sono stati i Song dinastia che ha riunificato praticamente tutta la Cina nel prossimo secolo la Cina conoscerà una fase di grande espansione pensate che in un secolo la popolazione cinese si stima che raddoppierà segno che saranno spansi i campi ci sarà ci sarà pace ma soprattutto in questo stesso momento stanno venendo introdotte in Cina tutta una serie di invenzioni che avranno grossi effetti a livello globale ad esempio in questo momento sta venendo introdotta la cartamoneta i soldi i soldi in carta che sembra una stupidaggine ma hanno un grosso significato perché si dà ad una banconota un valore che non è il suo valore fisicamente in metallo ed è ovviamente un grosso passaggio per alcuni le prime banconote erano state inventate nel VII-VIII secolo ma è solo in questo periodo che diventano di largo uso di qui a poco peraltro sempre qui nella Cina dei Song sarà introdotta anche la polvere da sparo ma si stanno diffondendo le bussole carte astronomiche insomma è un momento di grande rifioritura dal punto di vista culturale e ovviamente della popolazione dall'altra parte però dicevo un periodo di relativa pace perché i Song una volta acquisito il pieno controllo della Cina hanno iniziato a mettere gli occhi anche sui loro vicini e per potersi espandere hanno creato la prima flotta stabile cinese che per ancora qualche secolo dominerà queste zone di mare circa una ventina di anni fa hanno condotto la loro prima campagna contro il regno dei Dai Viet cioè Dai Viet il nome che si dava all'epoca al nord dell'attuale dell'attuale Vietnam la campagna iniziata in pompa magna con una doppia invasione una via terra e una via mare è però terminata malissimo perché i Dai Viet dopo essere stati sconfitti nelle prime battaglie si sono ritirati riorganizzati e mentre i due eserciti cinesi si indebolivano a causa delle malattie loro dopo essersi riorganizzati li hanno aggrediti uccidendo entrambi i generali ed eliminando circa metà delle truppe cinesi con le altre costrette ad un triste ritorno in Cina un fallimento militare che però non ha più di tanto indebolito la Cina che nei prossimi anni continuerà a cercare di espandersi chiudiamo questo viaggio con un'ultima sosta in Giappone in Giappone in realtà non c'è moltissimo da dire in questo momento governa ufficialmente l'imperatore Ichijo che però non ha particolare potere perché siamo nel pieno dell'epoca Einan e a comandare è il clan dei Fujiwara che peraltro proprio negli ultimi anni ha sconfitto gli ultimi clan che gli si opponevano ed è a tutti gli effetti diventato il vero dominatore del Giappone potremmo dire che siamo quasi in un periodo di sciogunato simile a quello che ci sarà di qui a 600 anni insomma l'imperatore ha perso la sua centralità politica e non le acquisterà veramente per tanto tempo e sono invece i clan alcuni clan a comandare a suo nome il Giappone è entrato in quell'epoca appunto di tumulti che l'accompagnerà per parecchio tempo fino a che l'autorità dell'imperatore non sarà ufficialmente ripristinata ma ne parliamo solo nel 1800 quindi insomma ci vorrà veramente parecchio tempo ci fermiamo qua il nostro viaggio nello spazio nell'anno 1000 termina qui risaliamo sulla nostra DeLorean ripartiamo e torniamo nella nostra biblioteca non abbiamo ve l'avevo già detto prima fatto pause né in Africa né in America né in Oceania questo perché ripeto rispetto alla scorsa puntata non c'era molto di più da dire ma se siete interessati a queste zone vi rimando al nostro viaggio fatto 50 puntate fa nella 950 e potete scoprire qualcosa anche di questo periodo e adesso che siamo nella biblioteca a me rimangono i ringraziamenti perché non si può non ringraziare tantissime persone per queste mille pillole di storia non si può ringraziare non ringraziare chi mi ha aiutato all'inizio non si può non ringraziare tanto per fare un nome così Crozzicatia che voi non conoscete ma è il nick di una persona squisita che mi scrisse o meglio da cui presi il testo per la primissima pillola di storia non si può non ringraziare Giulio che fin dall'inizio del canale mi ha aiutato con l'ucronia con tante pillole non si può non ringraziare Makoba che è stato il primo pensate a contribuire in pianta stabile a una serie il primo a dare il materiale per una serie la serie sullo spazio che presto riprenderà e porteremo a conclusione e poi non si possono non ringraziare le tantissime persone che dopo Makoba lo hanno imitato e hanno fornito materiale chi lo ha fatto per una pillola chi come Antonella lo ha fatto per 40 pillole e ma non lo sto smaltendo chi si è occupato anche talvolta della parte reale come Ilaria che ha organizzato addirittura un incontro che faremo qui a qualche giorno a Milano ve l'ho già annunciato insomma non si può non ringraziare le tantissime tantissime persone che forse perché hanno creduto in questo canale nel progetto forse perché semplicemente si sono divertite a farlo hanno voluto contribuire in mille mille modi diversi non si può non ringraziare tutti quelli che hanno commentato questi mille video chi ha fatto delle correzioni chi ha consigliato nuovi video insomma non si può non ringraziare tutti voi perché questo progetto delle pilole di storia della biblioteca di Alessandria è ormai un progetto comunitario esattamente come dovrebbe essere una biblioteca c'è un'ultima particolarità la pilola oggi la sto girando molto molto presto e da una parte è una cosa che mi piace perché queste mille pilole di storia sono state girate nei posti voi non me ne accorgete perché ho un grischino alle spalle ma nei posti talvolta più impensati talvolta nei momenti più impensati ne ho girate in piena notte se andate a vedere tra le prime pilole ce ne sono alcune in cui parlo molto piano perché i miei vicini altrimenti avrebbero iniziato a bussare e la cosa giustamente magari le 11 di sera mezzanotte o luna di notte ci sono pilole che ho girato il mattino presto pilole che ho girato tornando dal lavoro magari stanco e si potevano vedere magari le occhiaie qualcuno me lo scriveva anche sotto pilole girate in ogni momento perché ed è questo che dico sempre quando mi dicono ma come fa girate queste pilole per me è un divertimento voi quando guardate un film quando leggete un libro solo quando siete belli riposati vi prendete la giornata per farlo o in ogni momento libero bene per me raccontare queste pilole queste mille pilole più la peristoria le pilole di sport quelle di cinema quelle di mitologia tutto il resto ecco tutto questo è un divertimento e lo si può fare veramente in ogni momento quindi vi ringrazio ancora una volta a tutti ringrazio anche in questa puntata come sempre gli abbonati i partner e chi fa donazioni sul conto paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo ad avere nuovo materiale a disposizione di tutti l'ultimo anno credo sia stato da questo punto di vista molto molto paradigmatico i soldi che vengono donati vengono utilizzati per togliere a me del lavoro trovare persone che facciano una parte del lavoro che fino a questo momento ho fatto io e questo mi permette di produrre più materiale di limitarmi alla parte che mi diverte di più cioè fisicamente a raccontare e poi montare i video ad ogni modo ringraziamento di oggi in particolare vale per lei vale per tutti e per Anna Falze grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre avrei voluto mettervelo quello della prima puntata ma non posso perché nella prima puntata non lo dissi ci misi qualche puntata ad arrivare a questa frase quindi come sempre ve lo dico adesso dal vero la cosa importante dopo ancora mille pillole è essere curiosi perché la storia del mondo là fuori ancora tantissime storie da raccontare tantissime storie da raccontare spazio per chi sa quante altre pillole storie che sono talmente particolari talmente curiose che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e così mantenendo l'errore che ho sempre fatto e continuo a fare dal punto di vista grammaticale in questa frase ma ormai è tradizione non posso che consigliarvi di provare a curiosare tra qualcuna delle mille e più storie che abbiamo raccontato in questo nostro viaggio fino a questo momento qui a fianco le troverete qui a fianco per il resto ci vediamo presto per la mille unesima puntata di Pidole di Storie la mille due la mille tre e così via finché avremo voglia di andare a presto e ciao ciao